Sì, io per vivere devo spacciare un reato. Eh, sì, hai ragioni. Anche io sono assolutamente veroso. Fermo te, mi scende un griaco del suo stato. Oh, ho il cadenza libretto. Ma non è vero, ma non è vero. Lui è una persona onesta, lui è una persona onesta. Fa sempre le sue persone, ha sempre le sue persone. Mi lasci, per favore. Mi lasci, per favore. Mi lasci, per favore.